Salve notizia molto sconvolgente, è morta Anna Longhi, è l'attrice comica che ha fatto vari film, per chi non la conoscesse ha fatto la sua foto qui sotto, quando l'hanno detto era ora pomeriggio 5 ci sono rimasto di merda perché noi facciamo delle risate, comunque vedendola spesso dalle vertute, comunque capita che ti ci affezioni, guardi spesso magari anche le sue cose, a me è dispiaciuto tantissimo perché comunque era molto forte, era molto conosciuta ed era veramente favolosa, quindi do un bacio anche a lei, ad Anna, spero riposo in pace, mi è dispiaciuto veramente tantissimo, onestamente non è che piango per una celebrità, però posso dire che mi dispiace, veramente, salutiamo tutti Anna, regaliamoci un minuto di silenzio, per chi la conoscesse, ciao!